ciao ragazzi siamo qua all'imbucco del bosco blu sopra Novare e andiamo a fare una variantina nuova che è stata aperta da non molto con qualche droppino una cosa breve che poi comunque esce al casotto sopra qua a Novare e si può comunque prendere il bosco blu volendo quindi è una variante alternativa credo vedi che non è una calma e la un'albero riusciamo a spostarla? spostiamo sti qua dai questa volta dai almeno la via più grossa si potrebbe rifilmarla in due no? no di qua, va su di qua no ma se puliamo aspetta, questo aspetta, aspetta questo è il problema insomma se però si passa da l'intorno aspetta, aspetta, questo è tipo giocare a shanghai io caro vai di là, vai di venire questo si è spacca questo? non lo so serve da spaccare anche questo ma non si spacca va bene dai abbiamo trovato più grossa sai che è lì? cauccia e li siamo sbucati qua ah ok e qua adesso volendo uno può salire lì di cento metri e farsi il bosco blu ho capito va bene ciao questa era la variante del bosco blu qui droppa